È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza l'operaio a lavoro sulla superstrada Pedemontana, travolto da un'auto in tarda mattinata nei pressi di Breganze. La prognosi è riservata per i politraumatismi riportati. L'uomo infatti è raggiunto trasportato con l'elisoccorso di Treviso. Le sue condizioni, apparse subito gravi, hanno convinto i sanitari a richiedere il massimo dell'assistenza, classificandolo con il codice rosso. L'operaio, secondo una prima ricostruzione, si trovava all'interno della galleria Cafusa, tra Breganze e lo svincolo per la 31. Con un collega incaricato delle segnalazioni, l'uomo stava lavorando sul ciglio stradale, quando un'auto in corsa ha tamponato la vettura ferma. L'operaio ne è stato colpito di rimbalzo, mentre illesa la persona alla guida dell'auto investitrice. Immediatamente la superstrada è stata chiusa per le operazioni di soccorso. Oltre al personale del SUEM, sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, la polstrada e il personale a ausiliar di aria. Le operazioni sono terminate alle 14.